Ciao ragazze, primo spacchettamento calendario dell'avvento, ve l'ho detto che mi avreste trovato in condizioni pessime, sono struccata, mi sono appena svegliata, c'ho ancora il pigiama, ma ce ne sbattiamo le balle perché questo è più importante. Allora, giorno numero uno dov'è? Qua, giorno numero uno, apriamo, apriamo insieme e scopriamo cosa c'è dentro, lo so che non è un'inquadratura fantastica però è l'unico modo che ho per riuscire, questo tra le altre cose mi sa che ce l'ho, porca troia, vabbè però un doppione di questo devo dire che non mi dispiace perché è troppo figo, se riuscissi anche a tirarlo, ok. A tirarlo fuori, eccolo qua, giorno uno, giorno uno, allora, matte lipstick, suede, nella colorazione moonwalk, sì direi che è lui, dovrei averlo da qualche parte, chissà dove perché io come al solito poi c'ho una grazia nel distribuire i trucchi nei vari reparti della makeup room che non so dove sia, in questo istante l'altro, ma è lui, aspettate, è lui, è fighissimo questo rossetto, fa un po' effetto affogata nel tamigi eh, però è troppo carino, non è un rossetto portabilissimo da tutti i giorni, però è bellino, bellino, fantastico, primo giorno, calendario dell'Avento NYX, aperto, ciao ragazzi.